Siamo qui al Nautic Sud che si viene a Napoli dall'8 al 16 febbraio 2020. Siamo presso il nostro stand, lo stand Salpa, dove abbiamo esposto tutta la gamma gommoni. Presentiamo qui al Nautic Sud due novità. Abbiamo il 42 in versione T-Top, già stato comune dell'anno al Salone Nautico di Genova e il nuovo Soleil 30. Inoltre, oltre a queste due novità, abbiamo esposto praticamente dal piccolo della casa il Soleil 20, Soleil 23 e il Soleil 28. Dal 2020 entra nella rete vendita Salpa il nuovo dealer per il Lazio, Nautiland La Criccomare, azienda che opera nel settore da 50 anni, concessionario ufficiale di importanti marchi del settore, tra i quali Mercuri e Chiamaca. La sede espositiva sarà ad Anzio nella via Litoriana 540. L'azienda sarà inoltre presto operativa con il nuovo ufficio presso il Marina di Rettuno. Auguriamo buon lavoro alla Criccomare che è entrato nella famiglia Salpa.